Signore e signori Bentornati in questo gta online buonasera a quanto pare questa missione È un disastro boh e che dire io con Partiamo con l'elicottero perché so che quello che posso schiantare più facilmente cioè prevede sono tipo quelle le ice classiche La mia macchina è ancora la macchina bro raggiunge l'edificio è pezzo di merda però mi ha rubato le Vabbè facciamo così Gestione veicoli ultralight allora dobbiamo raggiungere La base l'ufficio di un emittente televisiva Sembrerebbe e dobbiamo rubare un elicottero per non ho capito non so se il cotto della polizia direttamente oppure Cazzo su tutte queste esplosioni Sto avendo dei flashback di guerra poco piacevoli Ho dei ricordi Di cose che succedono con l'esplosione viola la centralina di weasel news per scoprire posizioni il maverick della polizia fantastico Sono anche un hacker come se non bastasse come faccio Ecco la centralina top come faccio a violarla Come faccio f e e ok Sarà un po indeciso e la madonna che se è hacker simulator watch dogs Cosa fare? Decorare i numeri sulla sinistra ai modificatori della destra E non ho capito Result 10 Ah il target è Ok quindi questo fa 15 12 E ma non posso sapere questo cosa fa Ah infatti Ok no vabbè dai easy 3 e questo 15 Ma pensavo fosse molto più difficile questo hackeraggio onestamente eh Però meglio così Ok Volt lab abbiamo completato il nostro hackeraggio Sappiamo dov'è Andiamo a rubarlo Toccherà ammazzare dei poliziotti Cioè come fai? O la fai stealth mode? Ok andiamo a recuperare lo chopper Poi dove lo lasciamo io non ne ho idea Ma questo è un'altra domanda a cui troviamo risposta Rockford Plaza Chissà se è vicino Oh questa macchina è comparsa Vabbè tutto è un chilometro di distanza Poteva andare molto peggio Ok dobbiamo essere stealthy and shit Va bene Ci proviamo Ci proviamo Allora io credo di dover salire Oh cazzo c'è la polizia Salve Sono anch'io un giornalista Eh si è Sono anch'io un giornalista Guarda devo parcheggiare qui un secondino Come lo posso raggiungere il tetto? Ottima domanda Allora da lì sicuramente posso raggiungere il tetto Ma anche da qui posso raggiungere il tetto E allora sai che ti dico? Che figa ci buttiamo a capofitto Speriamo di non morire Salta un po' Credibile Aia Di testa così Grande Eh ma lo fa a volte Allora raggiungiamo il tetto Senza farci vedere Ma tanto qui polizia non ce n'è fortunatamente Ecco io ho solo un grande problema con gli elicotteri Con i veivoli in generale Bella quella macchina Con i veivoli in generale in GTA Che non li so guidare Non li so guidare Faccio cagare a guidare i veicoli qua dentro Cioè i veicoli e i veivoli Ruba il maverick della polizia Eh vabbè Siamo questi noi eh Siamo questi 8000 scale Non potevo presentarmi lì Vabbè andiamo Senza usare armi quindi eh Oh quello è un poliziotto Quello è un poliziotto Quello è un poliziotto Devo assolutamente aspettare che Il bro ce ne vada Perché se mi vede è un casino Appena si gira Non è che scende anche dalle scale Eh no che cazzo dai Se scende dalle scale Ne vado Dai bro Girati C'è anche una telecamera Addirittura Ok Il bro non mi può sentire Giusto? Mi auguro di no Allora Ora devo Salire Ora non corriamo magari Ma possiamo anche correre secondo me Tanto non ci sente Ah dobbiamo stare attenti alle telecamere però Dove cazzo è l'elicottero poi? Allora dove è la telecamera? Urca proprio qui C'è anche della gente eh Vabbè questi però non sono Non è gente che non interessa Ora Dove cazzo è l'elicottero? Immagino che sia ancora su Oh cazzo questa è una Si sta girando Si sta girando Corri 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 Anche è piena di gente comunque eh Porca troia Faccio il giro lungo di lì Allora quello è un chopper ma non è Aia 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 Ma non ho fatto niente Non ho fatto niente Perché è esploso tutto? Mortacci No 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 Eh ma questo era il mio chopper però Ah no cazzo non era il mio chopper Qualcuno ha fatto esplodere tutto? Eh Va bene Semina gli sbirri Ma i mortacci Ha fortunatamente 3 stelle Con l'elicottero Vuol dire che è abbastanza facile Seminare gli sbirri Eh Eh Guarda Ci giriamo di qua Tanto finchè non c'è un altro elicottero che ci segue Siamo contentissimi Io non so se voglio andare Mannaggia Come cazzo si Si va con questo coso? Stanno sparando? Ma che davvero? Allora dobbiamo stare molto calmi Non so neanche dove sto andando Ma non ho capito perché è esploso tutto Se no me era qualche hacker che ha fatto qualcosa Altrimenti non si spiega Cambiamo un po' rotta Andiamo verso forte zancudo Oh c'è anche un po' di musica eh Niente male Ok andiamo un po' di qua Bene pensavo fosse più difficile guidare sto coso Il problema è sempre atterrare eh Ma anche detto questo Fortunatamente non abbiamo problemi di benzina Quindi eccoci qua Possiamo tornare a casa Siamo attenti a non stallare Ok Allora Consegna La posizione indicata Posso anche sparare questo coso? No vabbè Peccato Nel mio hangar da forza zancudo Ce l'ho un elicottero che spara sicuro Quasi tutto sto gioco Allora Come faccio a farlo atterrare? Ah qui Ok Non son capace io ad atterrare figa Chi è che urla? Che è successo? Che cazzo si atterra? No 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 gira No 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 Mortacci mia Ok Ora piano piano Ci avviciniamo E Atterriamo No 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 Come cazzo si fa atterrare sta merda? Io li odio gli elicotteri Dai, vai avanti un pochino Oddio, stanno esplodendo cose Atterra, per favore Dai, va bene, no? Ok Lascia la zona Tranquillo Me ne vado, guarda Prendo quest'altro E me ne vado a fanculo Cotteri di merda Sempre odiati Ma scusa, ma anche questo è un Maverick Non potevo rubare questo? Dai, lasciamo la zona Andiamoci dal cazzo Ok Ho recuperato il Maverick E va bene Andiamo a fare le altre cose Ma no, quante cose devo fare questa roba qua? Ruba il carico? No, no, non ho capito Ah, lotta tra business No, non ci interessa, non ci interessa Allora, andiamo qui Che cosa dobbiamo fare qui? Eh, non ho capito Ah, c'è un carico No, non è un carico Perché cosa, cos'è che bippa? Mortaccio, io lo odio l'elicottero Jamal, dimmi Allora, atterriamo qui Perché a quanto pare c'è qualcosa di cui ho bisogno qui Oddio Che atterraggio incredibile Vai, scendi Perfetto Premi E per contattare Jamal Ok Cosa devo fare? Devo nascondere delle armi qui Ma non ho le armi Come faccio a scaricarle? Vabbè Non ho capito cosa devo fare Sta succedendo un disastro Cosa sta succedendo? Ok, entra da Munation Andiamo Ci sarà qualche arma nuova tra l'altro Forza Cerca le armi non registrate Eh, cerchiamole Saranno in ufficio? Non posso andare in ufficio Saranno qui nascoste qualche angolino Che cazzo è tutti sti spari Salve Posso entrare di qui? Non posso Trova le armi non registrate Eh, bro Eh So che dirti Io non ne vedo Sento bombardamenti Che sembra di stare Non lo so Renterò di fare i commenti Però Sono qui dietro? Ciao, bro Eh, se non sono qui dietro Dove cazzo sono? Ah Mi sa che sono questi Eh No Questi sono accessori Giubbotte entre i proiettili Prova gli accessori Esaminare le armi Sì, sì Proud to be in American Frega il cazzo Lancia granate Bello Sì Questa è nascosta qui Cosa vuol dire Trova le armi non registrate Dai, perché deve essere Tutto uno stradol Questo? No Cioè Non è che c'è molto Sarà dentro Un cassetto di questi Ah Prendi le armi Vabbè Ah Nascosta nell'angolino Oppure Va bene Armi non registrate Ce l'abbiamo Nascondi le armi Nella stazione di polizia Fantastico Make sense, no? Ciao bro, tranquillo Sto uscendo da qui Con un borsone che Vabbè Qua ci sono Disastri sui disastri E ho bisogno di una macchina Proprio nella stazione di polizia Qua non ce ne sono Madonna Cosa sta succedendo? Oh Qua è un poliziotto? Cosa sta succedendo? Io non ne ho idea Guarda quanti Il poliziotto Non si è ben capito Dove sta andando Chi stanno sparando? Ah Cazzo Sì Stanno facendo qualche missione strana Io però nel dubbio Rubo questa No, anche questa è della polizia Capito Fermi un po' No, però non posso andare a piedi Fino Ecco, rubiamo questo Dai Andiamo col van Ma Per niente sospetto Ma bello che qua Nessuno si è lamentato Se ne vanno e basta Che sanno che Questa è la situa Ah, cazzo 400 metri Potevamo andare a piedi In effetti Vabbè Easy, easy Allora, come ne nascondo lì Le armi? Prima che ti vedano le telecamere Come faccio? Nascondi le armi Nella stazione di polizia Posso salire da qui? Se non me posso salire da qui Allora Non so se ci sono telecamere Premi e per nascondere le armi Ok Nel cassonetto? Top Sotto il cassonetto Fantastico Lascio la zona Guarda, me ne vado C'era qualcuno che stava volando Ah Ora mi ricordo perché si gioca sempre nelle sessioni singole Allora, lasciamo la zona molto beatamente Ce ne andiamo proprio Oh, oh Stanno sparando? Che senso? Ok Ho nascosto le armi Meno 5.000 Ma come? Ma come? Non ho capito Ok, c'è un altro incarico qua vicino Andiamo Cosa dobbiamo fare? Premi e che E rubare il veicolo di fuga Top Ah, mi rompi nel garage Perfetto Almeno qua accanto Come si fa di rompere il garage? Ah, a piedi pure Fantastico E allora ragazzi Io non me ne intendo molto Ma nel dubbio Prendo il mio rifle Perché credo che sia La cosa migliore da fare Forse un giubbotto antiproiettile Potevo comprarlo Così che si muore Così che si muore Ah Ruba un veicolo per la fuga Ma quello che cazzo è? Michael? Ma... Oh infatti Stavo dicendo Ma perché nessuno mi spara? Sono morto Capito È massacrato Ma è grazie al cazzo Massacrato Allora fermi un po' Salute e munizioni Giubbotti antiproiettile Giubbotto pesante Ve lo metto subito Munizioni Tutte Grazie Vuoi le munizioni massime Di tutto Guarda non ho capito Perché erano tutti felici E contenti Ma magari Posso farlo stealth Anche qui Che nessuno mi rompe il cazzo E invece no Quanto pare no Deve uno semplicemente Accorgersi che sono presente E invece no Questo giro Tutti Capito Quanto ci vuoi Ma ho capito Ma che cazzo sono Dei juggernaut Non muoiono Io non ho parole Poi il fatto che devo entrare Dopo il caricamento E questi già mi sparano Ho fatto un po' di merda Sta missione Però va bene Non ci lamenteremo Allora Tu Ce ne vai a fanculo Subito Nasconditi Nasconditi Perché non si nasconde? Oh cazzo Sono quasi morto Chi manca? Chi manca? C'è una testa che sbuca lì Morto C'era qualcuno che mancava di qua C'era L'ho visto Dov'è? Proviamo ad andare Oh oh C'è una stronza Qualcun altro? Non ho tantissima vita Tu Puoi morire Capito? Questo garage Quanti cazzo di gente Cazzo di gente c'era Qualcun altro? Ok Ruba un veicolo Questa mi sembra una Porsche Onestamente Prenderei questa Oppure Ah io prenderei la Porsche Onestamente Oh Questo cos'è? Un Range Rover Range Rover Range Rover cazzottissimo E non Range Rover Esci Oh merda C'è ancora qualcuno Quale cazzo Se sei riusciti fuori Non è molto veloce Range Rover Però magari Dopo si Non lo so Perché dopo Dovrebbe essere più veloce Però Oh merda Eccoli qua Allora L'importante è Sparare a chi guida Se te ne puoi andare Senza pensarci troppo E questo è il trucco Se spari subito A chi guida Non ti posso ne seguire Oh cazzo Quanti cazzo sono? Ho capito Ma a chi cazzo Ho rubato Paolo Escobar C'è mal Licenziato qui Un po' più di ricerca Prossima volta Ok Allora è morta Questa a quanto pare È l'ultima macchina Che ci romperà il cazzo Però bro Che non è ancora morto Ora è morto Allora Strano che la polizia Non si sia degnata Neanche di Non so Venimi a cercare Sto sparando in mezza città Però Va bene così Va bene così Nasconde il veicolo Presse una delle posizioni Non ti preoccupare Nascondiamo tutto bro Nascondiamo tutto Allora Sono tre posizioni Strategiche Questa è la più vicina In realtà Vogliamo metterla qua Nel garage Ma andiamo avanti Vogliamo metterla più avanti Guarda non so dove è la stazione Ah quella è la stazione Sì La mettiamo qua dai Oh Questo chi cazzo è C'è la com'è Spero di no Per le mie Per nascondere il veicolo Ora io ho pochissima vita Se questo mi ammazza È un disastro Sono andato Sono andato Godo Cosa le armi E lasciamo la zona Guarda attraverso i binari Pur di andarmene da qui ora Sì ho capito Sto camminando da mezz'ora Quanto devo camminare Per lasciare la zona Dobbiamo una macchina È il mio preferito Il van Quello sas Con l'allarme pure Per non farci mancare nulla Vicino la stazione pulizia Dei geni Dai l'ho lasciata la zona Bro Ok Ok Ora manca l'appello Solamente una missione Che non ho ben capito Che cos'è Né tantomeno Dove è Cos'è Perché qui abbiamo Un'altra roba Ma non ho capito Ah no Perché l'abbiamo già fatta L'abbiamo già fatta No Bro Dimmi che non ce l'hai commessa Che ti hai fatto C'ho il culo Non capisco se manca qualcosa Oppure no Scusa Abbiamo la mappa C'è qualcos'altro che devo fare? Questa roba L'ugone delle armi Non so cos'è Ma nel dubbio andiamo a vedere Ok Scomparso Chi cazzo è brusimo Allora Mi è appena comparso Il prossimo Pallino verde Per le missioni Ma io nel frattempo Volevo vedere Sto cazzo di camion delle armi Perché magari È un qual Tipo Un venditore itinerante Di armi Che vende solo armi strane Sarebbe una figata pazzesca No Se tu mi dissi Delle armi particolari Tipo robe laser Roba laser no Però Come cazzo ci arrivo lì Allora Sto camioncino Un po' più lento Non esisteva Ok Allora Camion delle armi Eccolo qua Dov'è? Nascosto qui? Bello Chi è il bro? A parte che Dovevo curare un po' di vita Ciao bro Cosa mi vende di bello? Armi dal fuggito delle armi Armi da lancio Armi da lancio cos'è? Granata a gas Ah sono già al massimo Cazzo Ok Armi Mitra tattico Beh carino Fucile di precisione Disponibile uno sconto al 10% Basta Questo è? Beh fucile di precisione Questo ce l'ho già? Fantastico Beh dai io compro tutto Caricatore steso Silenziatore Mirino Certo compra tutto Corazione militare Rosa Rosa un po' troppo Vabbè a colazione ce ne sbratte il cazzo Questo Bello Vai allora Colazione militare la prendiamo Possiamo fare qualcosa No Munizioni per 20 Colazione Basta Ok E niente Questo è quanto? Giobotti antiproiettili Minchia Ho comprato tutto Max Ho preso tutto davvero? Ok top Almeno c'ho un po' di difesa Ok Il venditore abusivo di armi mi mancava Non Prima volta Fai vedere cos'è che ho comprato Carabina speciale MK2 No Non è quello che ho comprato MG da commandimento Impia devastatrice E questo Madonna che figata Ehm No Ehm Dove cazzo è? Ah Fuciglia da cecchino Tiratore Fuciglia di precisione Fai vedere Eh ma scusa Ma senza mirino? Che cosa vuol dire bro? Guarda Questo Questo si che è un fuciglia da cecchino Va bene Comunque signori Per questo video Oh Che è successo? È tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Ci vediamo Nelle prossime Puntate Ciao Trudru tutti Ciao Ciao